Benvenuti. Prima di iniziare questo video, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like se il contenuto vi piace. Grazie. Denise Pipitone rimane nel cuore di tutti noi, e la sua scomparsa è uno dei casi più discussi e seguiti nei media. Da quando è scomparsa il 1 settembre 2004, non abbiamo avuto notizie di lei. Sono trascorsi molti compleanni senza che la mamma Piera potesse celebrare con la sua bambina, che ora sarebbe una giovane donna. Il mondo intero si è unito nella speranza di ritrovarla, ma purtroppo senza successo. Un altro caso che ha colpito profondamente è stato quello di Olesia Rostova, ventenne russa, scomparsa il 31 marzo 2021. Purtroppo, il test del DNA non ha portato all'esito sperato. Tuttavia, Piera, una madre coraggiosa che non si arrende mai, continua a lanciare appelli disperati per ritrovare la sua dolce Denise. Piera ha condiviso un messaggio commovente sui social. Mia figlia è viva, lo sappiamo tutti. Prima o poi la ritroverò e festeggeremo insieme. Denise è diventata la figlia di tutti gli italiani, e la speranza di ritrovarla non si è mai affievolita. I suoi grandi occhi rimangono impressi nei cuori di chiunque abbia conosciuto la sua storia attraverso i ricordi della mamma Piera.